Lascia un like, iscriviti, e attiva la campanella, per rimanere aggiornato. L'attore starebbe valutando seriamente di abbandonare il reality. Ieri sera, Ciro si è confidato con Rosie Chien e ha rivelato di non sentirsi più a suo agio all'interno della casa. Il concorrente ha manifestato una certa insofferenza e la voglia di abbandonare definitivamente il gioco a distanza di due mesi dal suo ingresso. Chiacchierando con Rosie, Ciro ha manifestato la sua intenzione di abbandonare la casa del grande fratello. Il concorrente ha lamentato di avere da alcuni giorni uno strano malessere, non si tratta di tenermi impegnato, non sto bene, mi sveglio la mattina e mi fa male la testa. Non dormo e durante la giornata ho brutti modi. Ciro Petrone è disposto a parlare con gli autori per cercare di trovare una soluzione, devo parlare con loro e cercare di capire un po' di cose, altrimenti sono costretto a rimanere. È brutto pure per voi che sto qua. Rosie ci incerca però di rincuorarlo, non pensare a noi. Proprio in quel momento la regia ha però cambiato in quadratura. Sono molti i telespettatori che hanno notato in questi giorni un cambio di atteggiamento da parte di Petrone. All'inizio il concorrente sembrava essere entusiasta di questa esperienza ma con il passare dei giorni le cose sono cambiate, si è spento, scrive qualcuno. Anche Massimiliano Varrese è convinto che qualcosa sia accaduto e, parlando con Alex, rivela. Sta così da 15 giorni, da quando è successo il casino nella puntata tosta per me. Il concorrente ha fatto riferimento alla situazione che lo ha visto protagonista assieme ad Heidi. La storia d'amore tra Massimiliano e Heidi è stata al centro dell'attenzione sin dal programma. Varrese si era rivolto più volte a Petrone chiedendogli di intercedere con Heidi. Evidentemente però dopo quanto è accaduto l'attore deve essersi sentito in colpa per averlo aiutato. Speriamo solo che Ciro possa superare questo momento difficile e proseguire la sua avventura.